e benvenuti a un nuovo episodio della carriera fino a 20 gol marketfield intanto brutte notizie si fa per dire perché agone viene infortunato per giusto cinque giorni dovrebbe recuperare già in settimana per la prossima partita vediamo un po vabbè facciamo crescere i giocatori qua non mi devo dimenticare il terzino nuovo ossia su sac vabbè facciamo il primo ok vediamo un po a pausa nazionale addirittura ok va bene gli anson venduto 15 un milione e cento per il mercato prossimo almeno mi pago i rinnovi ok altro allenamento altro giro altra corsa diamo un po chiede trombi ci è andato male mamma mi vabbè bene così eccovi prossima partita contro il burn molto ovviamente anche in live su twitch sempre canale santi 20 87 io praticamente registro primi live e poi dopo le metto ci faccio il video il montaggio e tutte le cose gli annessi e connessi vediamo un po intanto che viene sta bene sta meglio di me e facciamo mettiamo questa formazione così dai bene burn out mackersfield forza ragazzi forza a eccoci a burn emote sud dell'inghilterra per burn out mackersfield al vitality stadium sono piccolino ecco qua cioè secondo me poco più grande del town park cominciamo qua me petriccione cioè che squadra è dan giù ma vabbè questo non lo conosco mario lui oh mamma mia cook attenzione lui sto sempre su quella fascia oxanen e viene attenzione gips white vede il movimento c'è il corridoio per parrott parrott col sinistro piede debole 1 a 0 mackersfield con troi parrotta pensavo andava fuori questo tiro sinceramente è un buono 1 a 0 mamma mia dove l'ha messa troi parrott ottimo sotto il ferro proprio sotto il 7 eccolo qua dall'altra angolazione contro campo sotto fir bellissimo grande tre parrott 1 a 0 mackersfield attenzione lungo per parrott attenzione parrott sulla fascia può avanzare si ferma la dà indietro a evan evan vede subito il movimento di davis davis di prima 2 a 0 mackersfield davis con un ottimo scambio grande qui la palla di evan pesca subito il movimento di davis ed è 2 a 0 giannathan davis mario ruvi ancora petriccione per dan giuma cook dan giuma gusling avanti per vedad murichi dan giuma occhi a vedad murichi tenta il tiro e 2 a 1 burnemouth come sempre subiamo gol però questo è stato un bel gol per dire la verità eh vabbè eh vabbè ciao andrea ciao andrea non avevo visto stavo un attimo distratto porca miseria dai dai murichi keeps right davis van de perger finisce il primo tempo non ci voleva proprio questo gol a fine primo tempo dobbiamo stare attenti adesso secondo tempo con la nostra battuta evan il nostro treno meglio la falla è falla bene keeps right vicino per thomas thomas non vede spazi e la passa pendolino pendolino middle of the night ai due tempi di pendolino cafu cross in mezzo alto per davis che controlla con calma e la dammichel attenzione vai spiriti con sa desmichel su quella fascia attenzione cross in mezzo il falla fuori peccato era buono il cross veicol fuggini ancora dietro per cucca siamo all'interno dell'area attenzione oh la palla deviata grande portiere e ruba palla no vabbè bene dai dai davis no sbaglia tutto il passaggio cucca veicol si soffre fino all'ultimo uami è finita signore meno male 2-1 marketsfield sul burnemouth meno male vittoria di misura ma sono tre punti molto importanti per la corsa salvezza beh eccoci fra poco giocheremo contro il norwich che è salito con noi dalla championship come primo eh offerte per la fila mamma mia no caccia fa questa filante ok rifiuto offerte ah si tutte le offerte qua rifiuto 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 via aspettate adesso vi faccio vabbè ma la faccio vedere quando intanto sono sempre decimo per fortuna questo è un scontro fondamentale per la salvezza perché quest'anno come obiettivo prefissato io ho la salvezza con questa squadra qua per forza non è che sono forte ecco qua vediamo un po' intanto ogni tanto faccio fare staffetto tra parro tail facciamo giocare questi tre qua così ripside oxanen anzi ti dirò di più ogni tanto farlo giocare boxic il nostro giovane di 17 anni che sto facendo crescere per poi perché c'è un bel potenziale arriva fino a tipo 94 se è tipo 78 94 non so il genere ma non mi ricordo vabbè così va bene dai questa è la squadra in sintesi andiamo dai ragazzi maccasfield knowledge city in casa town park pronti kill per lewis per attenzione boxic bravo michelle hai fatto bene evitare il calcio d'angolo però sbaglio il passaggio boxic sentione morris tiro e e pigliamo goal vai come al solito morris però sono abituato a rimontarle quindi non mi scompongo caldo morris può dare a pendolino metal niles vai pendolino si ferma ancora cerca spazio hill si gira tiro valla fuori peccato non è il suo piede il destro è il sinistro però vabbè pensavo tirasse un poco meglio vabbè dai 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 ancora niset rossa alla tequarti thomas no mamma mia meno male vai in avanti morris attenzione dietro dota bravo thomas calcio all'angolo vado avvicino a clemens cross in mezzo palla sul fondo grand niles che serve avian oi mazza fallo tra questo eh peccato niset mclean holding mclean niset clemens hashed e fine primo 1-0 knowledge dai 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 ma possiamo rimontare questa ci vuole cambio però ecco mettiamo l'artiglia di appesante attenzione morris ancora clemens mcculler clemens morris mcculler clemens per mclean oh peccato ho duda oh non riesce a girarsi però keepsight ripende palla davis hill hill può avanzare attenzione può esserci il movimento di davis attenzione davis 1-1 davis eccolo qua eccolo qua il pareggio del mcculler per questo non ci scomponiamo noi ci siamo sempre dai l'ottimo movimento di davis che entra su hill che tiene palla e mette questa palla in mezzo ai due difensori e davis non può sbagliare bene clemens mcculler con calma keepsight nata vandenberg per boxic oh è partito michel attenzione spiri consale michel sulla fascia c'è molta gente in mezzo cross attenzione al volo ancora davis 2-1 mamma mia rimonta completata c'è davis 2-1 con un bel tiro a volo sempre di destro che lo sappia però davis è sinistro è sinistro meno male boom ottimo cross di michel bene 2-1 morris clemens benissimo boxic in avanti davis hill ottima palla per evian attenzione aspetta hill hill in mezzo controlla tiro mamma mia ti hai mangiato però te lo sei mangiato qua ecco pendolino bravo oxanen kips white può tentare il tiro ancora hill palla sul fondo ho tastiato ho tastiato qua eh attenzione oh la puoi prendere luis bravissimo evian hill hill anche col sinistro lo puoi tentare ed è 3-1 hill l'attaccante del futuro per me c'ha un 90 di potenza questa di sul tiro un bel tiro mi piace assai per carlo non c'ho pochi margini di crescita mostra 74 vai fare una buona busvalenza su questo giocatore qua vai hill il nostro demon hill in onore del pilota di formula 1 guarda là bam valla a prendere portiere 3-1 siamo al 90 morris grilis odota vabbè comunque due vittorie su due ragazzi bene così vasiliadis mclean bravo evian di schiena ancora eh spazza si va bene milenkovic ancora ma finisce la partita makas finoric 3-1 subiamo sempre il gol perché purtroppo la divisa è quella che è ma almeno tre gol li facciamo e proseguiamo la nostra corsa per la salvezza ok prossima partita contro il Brighton che è due punti sopra di noi diamo un attimo un occhio alla classifica per sfizio per vedere solo sta 20 punti qua la con l'Aston Villa quarto sta addirittura eh quella mi ha battuto a me l'Aston Villa bella squadra stranamente sta a 28 punti qua tengo differenzialiti meno uno mamma mia 6-2-6 qua l'Arsenal sta inquaiato 13 punti solo Sheffield 9 punti West Brom ancora zero ma che è praticamente 11 punti sopra la salvezza ce la potrei fare a salvarvi che miseria vabbè prossima partita contro il brighton missione sorpasso tera 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 vediamo un po ma stanno abbastanza bene tutti quanti e sanno bene che l'ho conservato giocare rosa devi stavolta ormai e viene il nostro jolly può giocare tutte e tre le parti della della tre quarti il resto bene così ci sono tutti attenzione brighton mcclesfield dai ragazzi teron barco bravo da a e dar dalla dove c'è rimasta questo guarda dove è rimasta sta palla pure il rimpallo vincono 1 a 0 brighton ti parevo sempre inizio minuti e gol sempre amma amici da la palla è rimasta la palla sui piedi a questo se mi sa mi sa bravissimo gips white attenzione ma può dare a parrott parrott prosegue può tendere il tiro calcio d'angolo di michelle michelle può avanzare sappiamo che mette boy cross però attenzione si ferma vicino per osadevi osadevi attenzione si può girare la dà può tentare gipsite calcio d'angolo gipsite ancora dalla bandierina il portiere smanaccia ryan thomas si riprende palla evian attenzione evian vandenberg per gipsite gipsite si gira tiro palla sul fondo vai vero più deciso burro attenzione tra ore va sul fondo attenzione middle night in avanti vai oxanen finlandese spumeggiante non ti fermare non ti puoi fermare adesso siamo fine primo tempo ce l'hai fuori no perché non l'ha dato a quello sopra mamma mia queste volte fanno dei passaggi uovo che non li capisco attenzione deron borre ma è finito a primo tempo davis è finito il primo tempo 1 0 brighton mamma mia bene dai peter lewis cross in mezzo valla sul fondo zefwick sta per mettere la seconda zeppola si può avanzare sotto per parroth parroth potentare valla sul fondo e non andava tanto lontano c'è il fresco bravo e per forza così vai bravo xanen vai peter niles però bravo lewis lewis per peter lewis ed occhia il il si è inserito col sinistro ed è uno a uno appena entrato demon hill purga la difesa del west bromwich albion con un maestoso contropiede ed è uno a uno benissimo guarda è bella valla ci ha messo peter lewis ormai questo c'ha qui 5 stelle di piede debole questo non me la posso levare così facilmente organica uno uno zefwick per chamberlain attenzione deron si soffre borre barco attenzione chamberlain grande portiere grande portiere calcio l'angolo per uno cross in mezzo spazziamo stavall via stavall portiere grandissimo però c'è nuova possibilità di cross no kerto dietro ma sbagliano bravo il di prima per lewis lewis si può avanzare vai tranquillo non è finita vai ragazzi non fischiare non fischiare occhio il movimento c'è di lewis attenzione lewis palo bravo rosso sta per fare il pezzo che peccato e finisce qui uno a uno a che peccato vabbè però non ci possiamo lamentare sette punti in tre partite non è male la nostra quota salvezza va benissimo e con questo vi saluto ciao da santi 20 87